Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. L'Irpinia e le vicende politiche nazionali. Da queste parti chi aderisce a Italia Viva di Matteo Renzi e chi no, intervistato tra gli altri da Il Mattino, Luca Cipriano ha detto il gruppo che mi onoro di rappresentare guarda con attenzione a tutto ciò che accade nel centro-sinistra, al momento però preferiamo non fare fughe in avanti. È vero e infatti da quando ha perso le elezioni comunali di Avellino contro Gianluca Festa, Cipriano non fa altro che fuggire all'indietro, parafrasando la Bibbia, cenere politica era e tale è rimasto. Grazie a tutti.